Ciao ragazzi, sono le 7 di mattina e come ogni giorno inizia la nostra trasmissione. Sapete, mentre venivo qui mi sono fermato a riflettere sulla vita. La vita. Vi siete mai chiesti che cosa sia veramente la vita? Dopotutto si parte circondati da scalmanati che come pazzi si agitano intorno a te. È dura. All'inizio non sai niente, solo uno spermatozoo che cerca di unirsi ad un obulo. E poi boom, passano 9 mesi e ti sparano diretto in mezzo alla vita. Per voi, la prima canzone del giorno. Mia dolce anima, tipo Gorondelli. Chissà dove sei, mia dolce anima. Forse sulla luna a bere un caffè e non mi fa male che più non ci sei. Tengo il tuo amore qui, dentro di me. Grande mistero il cielo è, con il lavoro che ho per te, che gli occhi non vedono mai. Parole non mi spiegano, mia dolce anima dentro di me. Continuiamo a ricevere segnalazioni di messaggi poetici scritti su barchette di carta, che vengono ritrovate sui tram. Non sappiamo che le lasci. Tuttavia, questa persona sta riscuotendo l'affetto e la simpatia dei passeggeri. Il poeta vive del respiro degli altri, ma è troppo sensibile. Per l'alito del mondo. Non ha boato, né eco o ruggito l'amore. Ma è il respiro di uno sguardo, candido e gravido, di speranze e di passato. Il viaggio è nella mente. È volare. Anche schiacciati da un macino. È trascinarsi dietro il proprio mondo. Tutto quanto. Eppure, lasciarne una scheggia. Nelle galassie degli altri. Anche schiacciati. Anche schiacciati. Anche schiacciati. Anche schiacciati. e il soffio d'amore racchiuso in quel, per te, a farlo brillare come una stella. Guarda, non ho capito asserotti, ti ricordi quella volta quando sono entrati del duro nel tram? Conoscere gli uomini che abitano il mondo. Parliamo cinese, arabo, francese, russo, eppure ridiamo tutti nella stessa lingua. Ti ho portato qualcosa da mangiare e una camicia di ricambio. Mi spiegherai mai perché hai scelto questa vita? Hai mai provato ad ascoltare le voci del tram? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Due pastiglie la mattina per la pressione, tre a pranzo, altre tre la sera per il colesterolo. Sei pastiglie al giorno, 58 pastiglie alla settimana e 2920 pastiglie all'anno. Ci sono un po' troppo, 58.420 anni, una vita di pastiglie. Ah, però ho speso un patrimonio, una montagna di pastiglie. In fondo adesso che ho finito di studiare, io che cosa posso fare? Non lo so, non so fare niente. Andare avanti a studiare, che cosa faccio? Altre cose non lo so. L'unica cosa che posso fare sono le torte. Magari potrei fare una pasticcera. È una buona idea. Eh, anche secondo me. Nei tuoi occhi, velati di inquietudine, colori, sogni, paesaggi, ricordi. Come cieli mutevoli, c'è musica in te e colori, a tratti sfumati dal tempo. Grazie a tutti. Chi l'avrebbe mai detto? Forse saranno i ricordi più strani ad emergere. La risata di un amico. La frase finale di un libro ormai dimenticato. O il profumo messo da tua madre tra i tuoi vestiti. Forse, oltre quella porta troverai un volto amico ad abbracciarti. E a illuminare la strada, oltre questo buio. E forse, ti accorgerai di non essere solo. E penserai di non aver lasciato niente dietro di te. Ma alla fine, ci sarà sempre qualcuno a riportarti dalle nebbie del tempo. EHz come un po' di te. EHz come un po' di te. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.